Professor Giuliano Piccini, quant'è importante oggi ricordare quella fase storica del nostro paese a distanza di anni? È importante soprattutto per le giovani generazioni in quanto una parte è misconosciuta, dimenticata per 60 anni e il significato profondo non è quello di odio e di vendetta, ma di costruire una consapevolezza, una conoscenza attraverso la quale ci può essere la speranza che queste tragedie e altri simili non accadano mai più. Grazie